Al momento in Calabria ci sono circa 4.000 cittadini ucraini regolarmente registrati attraverso le questuri territoriali e la quasi totalità ha trovato sistemazione in maniera autonoma e quanto emerso dall'ultima riunione dell'unità di crisi regionale istituita per la gestione dell'emergenza ucraina e accoglierà al meglio i profughi in fugal dal conflitto bellico. Dalla prossima settimana sarà operativa la piattaforma nazionale per richiedere il contributo di autosostentamento da parte degli ucraini che abbiano fatto domanda e ricevuto il permesso di soggiorno temporaneo dalla Questura. Una protezione speciale autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea per concederne così protezione temporanea dalla durata massima di un anno ai ucraini presenti sul nostro territorio. Il permesso di soggiorno temporaneo si differenza dal visto che si ottiene attraverso la mera registrazione in Questura che ha durata di 90 giorni. Gli ucraini giunti in Calabria vengono così regolarmente sottoposti a tampone e grazie alla collaborazione con le ASP provinciali e i punti allestiti su tutto il territorio. Per fortuna i casi covid rilevati da questi test sono esigui. A tal proposito si ricorda che sono attive le vaccinazioni degli ucraini in età scolastica. Si stanno programmando inoltre le attività di integrazione nelle scuole già per il prossimo anno scolastico 2022-2023 attraverso progetti predisposti dall'assessorato regionale all'istruzione in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Sono in evoluzione anche i rapporti con il terzo settore attraverso varie iniziative per sostenere il popolo ucraino in questo loro difficile momento. Si evidenza che hashtag offro aiuto la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che consente così ai cittadini, alle aziende e anche agli enti del terzo settore o del privato sociale di offrire beni, servizi e alloggi per sostenere proprio la popolazione ucraina. con offro aiuto frattino emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it